Un aereo con i baffi. E' l'ultima trovata di Movember, il progetto internazionale che ogni anno a novembre gira il mondo per richiamare l'attenzione su una causa molto importante, il cancro alla prostata maschile. L'idea è nata in Australia nel 1999 e per partecipare basta rinunciare al rasoio e farsi crescere i baffi per 30 giorni. Quest'anno a dare supporto all'iniziativa ci sono sia la Qantas, la compagnia di linea australiana, sia la squadra di rugby locale. Dice uno dei giocatori, Stephen Moore Bisogna ricordarsi di pensare anche a cosa c'è dietro a Movember, ovvero al cancro alla prostata, che è una specie di tabù tra la popolazione maschile. E' pericoloso, molte persone ci convivono e molte muoiono a causa di questo tumore. Quindi ogni supporto che possiamo dare per sensibilizzare su questo problema partecipando a Movember penso sia una grande cosa. Secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, il tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini dopo quello ai polmoni.